Grazie a tutti. Grazie per l'attenzione con cui avete seguito questa musica e ringrazio gli organizzatori. Vi lascio con un nuovo brano che sarà presente anche nel mio nuovo CD che si intitola Perpetuo pagare, proprio come il titolo di questo concerto. E verrà eseguito con un loop di kalimba, kalimba è uno strumento tipicamente africano, registrerò dal vivo l'esecuzione, alcune frasi vengono registrate dal vivo, messe in loop, cioè di continuo, e poi sopra questo loop improvviserò ancora con altri strumenti a fiato. Grazie per l'attenzione e arrivederci a presto. Un'ultima cosa, a chi piace questa musica, insomma queste sonorità, questi strumenti, può trovare sul CD senza ritorno che troverete qui dopo il concerto disponibile. Grazie. 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 Grazie.